Grazie Presidente, questo emendamento è molto importante perché recepisce a livello comunale quello che è il decreto del Governo, il 137 del 2020, che ha previsto per la proroga delle deroghe, come dicevamo prima, del decoro e per la presentazione delle domande per le occupazioni di suolo pubblico emergenziali, quindi noi con questo lo inseriamo anche in normativa comunale affinché gli uffici ne prendano atto. Grazie.